Ben ritrovati con il telegiornale di Arezzo TV, apriamo ancora una volta con l'avvertenza Fimer, questa mattina una vera doccia fredda, l'ennesima per tutti i dipendenti che erano in presidio di fronte al Tribunale di Arezzo questo mese, niente stipendio. E poi il Tribunale che scorcia i tempi del concordato, l'udienza è stata fissata a maggio. Dopo un anno e mezzo questa è la seconda cosa concreta che è successo nella procedura, una è l'arrivo delle offerte e una è che il Tribunale non vuole più aspettare e sta cercando di levare l'alibi a chi non vuole decidere. Via libera ad un fondo oppure sulla Fimer si spalanca l'ombra del fallimento, è questo l'ultimatum del Tribunale di Arezzo che nero su bianco ha scritto che il tempo è scaduto. L'ho sempre definita e sta vicendo un paradosso tragico, nel senso per il prodotto, per il mercato non lo siamo posizionati, noi non dovremo essere in questa situazione. È stato ancora un giorno di presidio alla presenza dei lavoratori con otto ore di sciopero, oggi infatti era la data cerchiata in rosso, il CDA si sarebbe dovuto esprimere sulle offerte arrivate sul tavolo, una delle quali vincolante ma è arrivato all'out-out del Tribunale. Che ha anticipato l'adunanza dei creditori da ottobre al 3 di maggio. Non ci sono alternative, stavolta davvero la vertenza arriva a un capolinea, due sono le strade o la proprietà accetta l'unica offerta per il momento presente e viene confermato che è McLaren, oppure ci sarà una pronuncia di fallimento. A rischio 280 posti di lavoro solamente in Valdarno senza contare l'indotto. Qui la maggior parte delle persone potrebbero andare a ritrovare lavoro, anche perché nella vallata, non è che siamo nelle grandi città. Nel frattempo un'altra doccia fredda per i dipendenti, lo stop all'erogazione dello stipendio del mese di aprile. Nuovo consiglio d'amministrazione, se effettivamente ce n'è uno non ha oggi potere di firma e di conseguenza la possibilità di sbloccare gli stipendi. Ho dovuto realizzare anche le bollette del gas, quindi immaginatevi voi come molte persone stanno passando questi giorni. E' dunque arrivato il momento delle decisioni. Con disperazione, convinzione e passione, frutto di molteplici considerazioni, levatevi dai c***i. Trovato in possesso di oltre 2 kg di marijuana e per questo è stato arrestato, si tratta di un cittadino albanese di 39 anni che dovrà rispondere di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. L'operazione è stata condotta nell'Aretino, nel comune di San Giovanni Valdarno, dai militari del nucleo operativo e radiomobile della compagnia Carabinieri di Figline Valdarno, coaiuvati dal personale del nucleo Cinofili di Firenze. I militari sono arrivati al 39enne a seguito di una segnalazione. Durante la perquisizione nell'abitazione è entrato in azione anche il pastore tedesco Tami che ha fiutato la droga. Lo stupefacente era stato nascosto sotto un armadio all'interno della cantina. Dentro una busta c'erano appunto oltre 2 kg di cannabis. Per il 39enne sono scattate le manette. Era completamente sconosciuto al fisco, un evasore totale, ma nei conti correnti dei suoi complici, a lui riconducibili, i finanzieri del gruppo di Arezzo hanno scovato oltre un milione di euro. 55enne conosciutissimo nell'aretino per le sue imprese da film avrebbe messo a segno negli scorsi anni ai danni di un imprenditore, appunto diversi colpi e poi tentato di nascondere tutto al fisco. È finito nei guai per non aver dichiarato al fisco oltre un milione di euro di guadagni, ottenuti però in modo completamente illecito, ossia perpetrando numerose truffe. Per questo è stato denunciato dalla Guardia di Finanza un 55enne a conclusione di un intervento ispettivo. L'attività di natura fiscale, spiegano le fiamme gialle e retine, fa seguito alle indagini di polizia giudiziaria concluse con la denuncia di quattro persone accusate a vario titolo dei reati di truffa, riciclaggio, sostituzione di persone e d'autoriciclaggio. I finanzieri hanno anche individuate tracciato assegne bonifici usati dall'indagato per comprare articoli di lusso. Una legislazione specifica prevede però che qualsiasi accrescimento di ricchezza di fonte illegale sia soggetto al pari delle regolari attività a dichiarazione ai fini fiscali e al relativo pagamento del tributo. È quindi scattata la verifica fiscale nei confronti del 55enne, che ha portato a scoprire l'omessa dichiarazione di redditi da truffa per 1.100.000 euro a cui corrisponde un'imposta evasa di circa 500.000 euro per gli anni 2019-2020. Incidente tra un'auto e una moto nel primo pomeriggio a Bibiena lungo il via Filippo Turati. I mezzi del 118 sono stati attivati intorno alle 13.40 per soccorrere un minorenne che al momento dello scontro stava viaggiando in sella alla sua motocicletta. Il giovane è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Fiorentino di Careggi, sul posto la misericordia di Subbiana e di Bibiena, i carabinieri e la polizia municipale. Attimi di paura questa mattina anche lungo il tratto aretino dell'autosolo. I vigili del fuoco del comando di Arezzo sono intervenuti al chilometro 342 in direzione nord per un incendio che ha coinvolto un'autovettura sul posto, oltre ai vigili del fuoco, la polizia stradale e personale di autostrade. Fortunatamente non ci sono state persone ferite. Una donazione al reparto di ginecologia consentirà di monitorare ancora meglio i parti. Quattro monitor per monitorare in tempo reale i parametri delle mamme e dei nascituri. Questa la donazione al reparto di ginecologia ed ostetricia dall'ospedale San Donato di Arezzo da parte del Rotary Club Arezzo Est. Il nostro club è sempre molto attento alle esigenze della cittadinanza e quindi nell'ambito di quello che viene fatto ormai da 50 anni da parte del nostro club a favore della città abbiamo colto questa opportunità e pensato che questo potesse essere veramente un'occasione importante e costruttiva. Aggiungere qualità per le donne che partoriscono. Quindi si tratta di un reparto molto importante e di una situazione straordinariamente importante per la vita della donna, del nascituro e anche della coppia. Gli strumenti verranno installati nelle quattro sale parto dell'ospedale Aretino. Banalmente andando a digitare piccoli parametri sul monitor di questi PC veri e propri ci consente di andare ad avere graficamente l'andamento del travaglio di parto e questo fa sì che noi possiamo percepire con anticipo eventuali anomalie del travaglio stesso e quindi prevenire poi delle sofferenze fetali. Il Consiglio di Amministrazione di Estra ha approvato i risultati consolidati di bilancio del 2022 in forte crescita sia i ricavi sia i costi esterni a causa del forte impatto dell'aumento dei prezzi delle materie prime. In questo scenario particolarmente complesso il gruppo è riuscito ad operare in piena continuità nella propria attività di vendita del gas naturale e dell'energia elettrica facendo registrare totalmente ricavi per oltre 1 milione e 700 mila euro in forte crescita più 68% rispetto ai ricavi del 2021. La variazione è imputabile prevalentemente alla vendita di gas e luce che ha subito un'impennata del 74%. Importanti opere idrauliche decise dal Consorzio di Bonifica per il cosiddetto Fosso delle Cento Griglie. Sentiamo. Il Fossatone, conosciuto anche come Fosso delle Cento Griglie, è un affluente sinistro del fiume Marecchia. Siamo nel comune di Badiate d'Alda. È un fosso che, come dice il nome, è caratterizzato dalla presenza di numerose opere idrauliche, in particolare briglie e opere di difesa di sponda. Non una, non dieci, ma cento. Tante, si dice, siano le opere idrauliche costruite dall'uomo nei secoli in Valtiberina per rallentare la corsa del Fossatone, più noto come il Fosso delle Cento Briglie. Opere che oggi, segnate dal tempo e danneggiate dall'erosione, necessitano di un profondo restading. Il Consorzio ha individuato tre di queste briglie che presentano notevoli problemi strutturali. Pertanto, nel corso del 2023, attraverso il piano delle attività di bonifica, faremo un intervento di sistemazione di tre di queste opere, che presentano in particolare parte dei muri d'ala crollati in alveo. Gli interventi da effettuare saranno realizzati in due tempi. Inizialmente verranno ripristinate le piste esistenti, quindi verrà fatto taglio arbusti e livellamento delle piste esistenti, in modo tale da poter avere accesso più facilmente alle opere idrauliche. Successivamente verrà fatto l'intervento di ricostruzione, di rifacimento e di manutenzione delle briglie che sono state individuate come maggiormente malmesse. Anche nell'anno del suo centenario, l'Automobile Club di Arezzo ha voluto premiare, come ormai accade ogni anno, gli automobilisti aretini che sono alla guida per almeno 60 anni, alcuni di loro, pensate, da oltre 70. Il super pioniere che è stato premiato per avere conseguito la patente ormai da oltre 77 anni è stato Fabio Sabbioni, l'aretino che è arrivato all'onore delle cronache per essere stato il meccanico più longevo al mondo, entrato per questo anche nel Guinness dei primati. Scorrendo poi la classifica dei premiati, rispettivamente in seconda e terza posizione ci sono Antonio Gennaioli con 75 anni di patente ed Enzo Tavanti con 73. Nella categoria invece dedicata al Signore hanno ricevuto il riconoscimento come pioniere del volante Iolanda Nonni, Gina Assini, Licia Lumachi, Palma Lazzarelli ed Eva Cacioli. E adesso invece torniamo a riproporvi un servizio che ci avete chiesto, insomma lo facciamo davvero con molto piacere, la premiazione del concorso fotografico del Carnevale dei figli di Bocco, quest'anno dedicata a Piero Franchini, recentemente scomparso. Vediamo. Da tutte le parti d'Italia sono venuti a vedere il Carnevale, abbiamo avuto gli elogi da tutti, quindi ringraziamo e speriamo di poter proseguire con il nostro Carnevale. Bello è partecipato anche il concorso fotografico che avete poi deciso di intitolare a Piero Franchini. Io sono di Castiglione Fibocchi come Piero Franchini, quindi siamo stati amici da sempre. e il suo ricordo, guarda, mi commuove perché pochi giorni prima ci siamo sentiti proprio per questo. Quel giorno lì, il giorno che si è sentito male, so che si è sentito male quando preparava la stanza per fare, per che si riunisse la giuria, quindi sono rimasto proprio così. Però devo dire, devo sempre ringraziarlo perché noi tre anni fa rischiavamo di cessare questo concorso fotografico perché non avevamo più le forze per poterlo fare. È stato Piero che lui con la sua organizzazione ha permesso di proseguire questa manifestazione e stasera avete visto che ci sono stati fotografi ma non erano nessuno di Arezzo, quindi proprio da fuori che sono venuti volentieri a fotografare le nostre maschere nel nostro paese. Quindi grazie di nuovo e grazie Piero. Primo classificato è Enrico Panichi di Castiglione Fiorentino, provincia di Arezzo. Un bel applauso a Enrico Panichi che ci ha giudito nel primo treno del concorso fotografico. Arriva dalla Valdichiana, da Castiglione Fiorentino, il primo classificato. Perché la scelta di partecipare a questo concorso? Perché è una fantastica manifestazione ormai che seguo da anni. È la seconda volta che faccio il concorso e è la prima volta che vinco. Ad un mese circa dalla scomparsa di Piero, questa intitolazione e il fatto che si sia ricordata la sua figura e il suo impegno per la sua Castiglione Fiorentino e per il suo carnevale? È stata una cosa bella, una cosa comunque commovente. Lui ci metteva veramente il cuore nel sostenere anche questa iniziativa, come faceva con le iniziative in cui credeva, in cui si impegnava. E quindi questa in particolare perché è nata e cresciuta nel suo paese dove lui ha vissuto tutta la vita praticamente. Quindi per lui aveva un significato ancora più importante. Sindaco, un'edizione partecipata dopo i tre anni di pandemia dove questa manifestazione ha sofferto. Abbiamo sentito però l'appello dell'associazione stessa. Lei stessa ha detto che i sindaci passano e i volontari rimangono. Questa è la grande ricchezza di questa manifestazione. Esatto, la ricchezza che deve rimanere, il messaggio che deve arrivare a tutti perché le associazioni, il volontariato devono andare avanti e anzi devono essere sempre più incrementati. Gli amministratori non devono fare altro che facilitare, aiutare la nascita e la crescita di tutte le associazioni che sono nel territorio. Noi siamo di passaggio ma loro devono andare avanti e continuare il loro cammino perché sono fondamentali, sia quelle sul social, sia quelle sulla cultura, sul volontariato in genere. Quindi non possiamo fare altro che spingere nuove eleve, nuovi giovani a entrare all'interno di queste associazioni che hanno fatto la nostra storia, la storia delle piccole comunità e devono portare avanti le nostre tradizioni, i nostri costumi e i nostri valori. E una delle passioni di Piero, forse la più importante, era proprio la foto, era stato anche lui tra gli organizzatori e i sostenitori di Foto Antiquaria. L'edizione 2023, la prima di questo 2023, ci sarà domenica 30 aprile. Fotocamere, cineprese e attrezzature fotografiche antiche, protagoniste di una mostra che è un vero e proprio paradiso per chi ama le fotografie d'epoca. Torna infatti domenica 30 aprile in Piazza Grande, Foto Antiquaria, la storica mostra mercato organizzata dalla Fondazione Arezzo in Turri in collaborazione con il Fotoclub La Chimera, che rappresenta un appuntamento imperdibile per appassionati e collezionisti. 25 espositori, provenienti da ogni parte d'Italia, che sotto le loggie del Vasari, dalle 9 alle 18, daranno vita ad una singolare fiera, dove sarà possibile acquistare o scambiare apparecchiature, sia analogiche che digitali, usate o fuori produzione, e ci si potrà muovere alla ricerca di pezzi rari ed introvabili per arricchire la propria collezione o riparare un'antica fotocamera. Non mancherà poi una sezione dedicata alla vendita di cartoline, libri e pubblicazioni varie di carattere fotografico. La manifestazione infine proporrà anche l'appuntamento come fotografare a colori con pellicole in bianco e nero, un curioso laboratorio curato dall'Associazione Camera Creativa, durante il quale verrà rinnovato l'esperimento che diede origine alla fotografia a colori. Siamo allo sport, è ufficiale, indiani resta sulla panchina dell'Arezzo, un contratto biennale per l'allenatore ufficializzato proprio oggi dal direttore generale Giovannini, accordo dunque fino al 2025 nel comunicato stampa. Si annuncia anche l'accordo per due stagioni con il neodirettore sportivo Nello Cutolo che, dice Giovannini, mi sosterrà nell'impegno da me assunto occupandosi anche della supervisione del settore giovanile. L'ultimo passaggio è dedicato proprio ai membri dello staff che Giovannini auspica vengano riconfermati dopo appunto la conferma di mister indiani. Ed infine siamo al basket, domani prima gara dei playoff per l'Amen Scuola Basket Arezzo. Terminata la stagione regolare, l'Amen Scuola Basket Arezzo si approccia ai playoff che prenderanno il via al Palace Portestra sabato 29 aprile alle 18 per gara 1 della semifinale contro il Basketball Club Lucca. L'Amen arriva a questa sfida dopo aver concluso al settimo posto il campionato con una rimonta finale stoppata nell'ultima partita dallo Spezia. Di contro il Basketball Club Lucca si presenta al Palace Portestra in gran salute. Lucca ha infatti un potenziale offensivo di notevole livello, tanto da sfiorare gli 80 punti realizzati a partita nelle 30 gare di stagione regolare, finendo quinta tra i migliori attacchi del girone alle spalle solo delle quattro squadre che hanno già guadagnato la promozione in serie B. Questa serie di semifinali si disputerà al meglio delle cinque partite con le prime due che si svolgeranno al Palace Portestra sabato alle 18 e mercoledì 3 maggio alle 21. Fondamentale sarà anche il supporto dei sostenitori a Amaranto. È tutto per questa edizione del nostro telegiornale. Grazie per l'attenzione e arrivederci.